Ciao Ciao Come va? Eh, non su questo devo fare qualcosa Certo Eccoci Eh, niente, facciamo un po' Netflix Certo Che bella sta Grazie Ciao Achton Ach, le scarpe Dai, dia smelta sulle Un bel Uff Togliamo le scarpe Scarpe che facciamo per caso di fame guarda più o meno andando la credenza è tutta tua no no tranquilla non ti preoccupare ok sicura? sì sì per niente padre sicurissima certo guarda che la credenza è tua no no non ti preoccupare vai vai ok ciao sicura? sì sì mi fa un panino? no tua madre ti ha fatto le gambe metto questa foto truccata anzi struccata appena sveglia ok ciao brava ti voglio bene ciao ciao posso mettere sul letto? ti piacciono le mie nuove famiglie? certo sono bellissime grazie le amo io ciao ti piacciono le mie nuove famiglie? orrende esci subito da questa stanza se devi usare quelle va bene il tempo va bene il tempo e finito da questa stanza eeeh hai sonno? no 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 sicuro? sì 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 non ti preoccupare guarda che me ne vado va bene vai vai non ho sonno si sono di un vero eh? eh sì sì eh sì eh sì mamma 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 sicura? sì 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 certo ho sonno ora non le lo dico carla 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 soglietti carla 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 ok Si fa nelle maniere forti. Parla! Non dormire! Sveglia! Sveglia! Oh no! No, si aspetta il telefono! Mi sbaglio annoiare! Vabbè, non ne so che cosa. Mancano due ore. Ehi, ciao! Ehi, perché il telefono è spento? Eh, si è scaricato. Ti stai annoiando? Per niente! Siete noi, dimmelo. No, ma che? Mi sto divertendo come una matta. Sicura che non ti stai annoiando? Io vado un po' sui social. Va bene, va bene, va bene. Lo sto usando. Ah, è spento il telefono. Mi sto annoiando. Ok, se ti annoia allora va bene. No, ma ci vorrei troppo fatica. Ok. Dai, dobbiamo fare una sfilata? Ma che sfilata? Mi sto annoiando. Ah, sono le 8 di sera. Dobbiamo studiare. Sono le 8 di sera. Non hai ancora finito? Non hai ancora in giro? No. Mi potresti prendere un'invita per tutti. Certo. Grazie. Sì, eh. La noia. Sono le 8 di sera. Dobbiamo studiare. Mi tagli il libro, per favore. E le gambe. Mettelo anche a me stasola. Preso. Finito. Ma che non l'hai neanche studiato? Ma vatti a comprare dei reggiseni da centi. Vatti a comprare dei reggiseni da centi. Vatti a comprare dei reggiseni da centi. Meglio che non guardate, ragazze, che ho comprato. No. L'era glaciale è finita nel mille. Sì, va bene. Finita. Ah, mi devo piacere i capelli. Così ti voglio andare, ragazzi. È bellissima. Come cavolo l'antico. E... Siete? No, no, per niente. Sicura? Certo. Ok. Se hai chiesto, dimmelo. Sì, sì. Oh, mio Dio. Devo mettere i capelli. Oh, come te lo dico. Sono super ammassi. I due più strani. Secondo te mi hai chiesto. Sì. Siete? Oh, no. Per niente. Sicura? Certo. E secondo voi, per chi ha altre capelli? Sì. 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 Chiudi. O se ti dammi l'acqua, amore. Hai le gambe? Cristo ti ha fatto le gambe. Te la vuoi a prendere da sola? Dove sta? Giù. Chiudi giù e devo scendere. Ma per favore vedi un bagno. Non è potabile. Chi è un bel e pericolo? Chi è un bel e pericolo? Io non ho sentito. Vuoi morire? No. un bel e pericolo. Oh, le vuoi toa? Ahahahah! Damme la. Cos'è? acquetta con l'acqua con l'acqua vi salutiamo e se questo video vi ha lasciato lasciate un bel pollice in su per farcelo capire per farcelo capire e niente ci vediamo al prossimo video aspetta iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto perché non c'è motivo per non farlo noi vi mandiamo un grosso bacione e al prossimo video bacio e al prossimo video ciao